sto uscendo da luca per festeggiare il capodanno cosa dovete mangiare poi a casa di lui si la mamma di luca deve fare la pasta al forno e poi andiamo a dormire non dovete bere alcolici vero no hanno visto luca a luca l'hanno visto con uno spinello in bocca l'altra volta intanto tu sei bravo ma le fai queste cose vero non ti metti a bere alcolici ragazzo di 16 anni che rischia di perdere la mano e l'occhio destro dopo sei stato investito dall'esplosione non dovete scoppiare neanche i pettardi vero non le faccio ma cos'è in quello zaino lo spazzolino e il joystick è un asciugamano non andare a dormire tardi guarda che ok ciao ok 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 ok